I grandi risultati di un imprenditore, punto di riferimento per l'intero territorio, si vedono come quelli che il dottor Carmine Cardinale ha lasciato e lascia tuttora appunto nel Valodidiano e anche oltre. Quello che spesso non si vede è l'intraprendenza di giovani imprenditori a cui le grandi personalità del territorio appunto possono lasciare spazio. Ed è il caso di Maria Luisa, giovane imprenditrice appunto del Valodidiano, che ha deciso di restare nel territorio, di migliorarlo, di dare una possibilità alla sua attività, appoggiata appunto da un imprenditore illuminato, qual è Carmine Cardinale. Maria Luisa, parlaci della tua esperienza e del perché, insomma, di che cosa fai e del perché hai scelto di restare in questo territorio. Io credo che il nostro territorio ha tanto da offrire a noi giovani e di conseguenza non dobbiamo fermarci al primo ostacolo che si ci presenta. Noi abbiamo deciso di creare la nostra attività nel territorio e quindi siamo propensi a continuare proprio per dare un esempio alla nostra generazione. Queste parole hanno ancora più rilevanza se dette appunto da una donna. Infatti l'imprenditoria femminile nel Valodidiano ha iniziato il suo sviluppo ma deve ancora aggiungere a una sua completa maturazione. Sì, in effetti questa attività è nata grazie a me e mia sorella con il suo supporto e di conseguenza cerchiamo di continuare in questa maniera.